I militari della sezione Carabinieri Forestale di Buccino hanno accertato una discarica di rifiuti abusiva. I militari hanno scoperto nel cimitero del comune di Buccino, in un'area circoscritta e chiusa da cancello, un ingente quantitativo di rifiuti depositati sul suolo, costituiti da lastre in marmo, pezzi di calcestruzzo, calcinacci, mattonacci, destinati alla chiusura delle tombe, laterizi, ferro, ornamenti in bronzo e plastica. Il sito ha una superficie di circa 45 metri quadri e non si esclude l'ipotesi di costituzione di una discarica abusiva. I militari hanno provveduto a sottoporre in sequestro l'area occupata dei rifiuti ed hanno deferito all'autorità giudiziaria il responsabile per il reato di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da demolizioni delle tombe.